Mielizia, dal premiato circolante del Barone Rosso a Sanremo, con i prodotti bio, le composte, il miele, i frollini, l'appepac, sollevo bio, gli integratori. Grazie a tutti. Casa Sanremo, tutti i giorni, la diretta We Have a Dream Sanremo. Sanremo è un sogno per tutti e quindi noi daremo spazio alla musica dal vivo di tanti ragazzi che coronano il sogno di esibirsi a Sanremo. Saremo a casa Sanremo tutti i giorni dalle 18 alle 20 e 30. Grazie a Mielizia.